Sono Gabriele Beccaro, professore dell'Università di Torino. Nel convegno di questa sera è stata una bella occasione di scambio tra Calabria e Piemonte. Si è parlato di castanicoltura, di una castanicoltura fatta in un modo innovativo, si è parlato di portare innovazione nella gestione del castagneto e notizia della settimana scorsa che in Europa molto probabilmente si investirà in castanicoltura nei prossimi anni. È stata avanzata una richiesta molto esplicita agli europarlamentari e alla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Si è chiesto di provvedere nei prossimi anni a investire su 40.000 nuovi ettari di castagneto in modo da riportare le produzioni comunitarie a quelli che erano i livelli degli anni 2000. Speriamo che questo invito venga raccolto, speriamo di poter lavorare in tutta l'Italia, in Calabria in modo particolare che è una delle regioni più importanti a livello nazionale per la qualità e la quantità delle produzioni. in Calabria in modo particolare